Per il Rettore dell'Università del Molise, Gian Maria Palmieri, i dati pubblicati dal Ministero che registrano una crescita dell'Ateneo Molisano sono incoraggianti e forieri di un nuovo sviluppo. E torniamo a parlare dell'Università del Molise, veloce, ascolteremo poi il Rettore Gian Maria Palmieri, ma quel dato di crescita è un senso per noi positivo, che auspichiamo che la Università, anche facendo delle critiche giuste, sacrosante, anche dei correttivi che sono necessari, ma soprattutto l'apporto che è badato da parte del territorio, e poi l'Università al territorio, è quello di procedere verso una crescita, perché l'Ateneo Molisano è un segno importante, fondamentale per l'economia molisana, soprattutto per i nostri giovani, ma deve avere il giusto supporto, il giusto apporto da parte delle istituzioni locali, delle forze politiche, ognuno con un programma, una strategia, ma deve avere questa forza. E questo 6,4% in più sulla questione delle iscrizioni fa ben sperare, ma soprattutto, ripetiamo e lo sottolineiamo, fino alla nausea, c'è la necessità di dare ancora più forza alla Università del Molise, perché è un segno per tutti noi, ma soprattutto per i giovani molisani, e soprattutto ancora per quanti poi non potrebbero neanche permettersi di uscire fuori regione, invece di poter studiare nella propria terra a favore della propria regione. Crediamo che sia l'aspetto più bello di tutto questo, indipendentemente da programmazioni, strategie e quant'altro. Ma sui dati che sono stati pubblicati anche dalla Repubblica, le valutazioni del rettore dell'Università del Molise, il professore Gian Maria Palmieri. Ma noi siamo alle primissime posizioni, secondo le classifiche del Sole 24 ore, relativamente all'attrattività da fuori regione. Il nostro obiettivo è di attrarre in misura ancora maggiore gli studenti di questo territorio, gli studenti molisani. Lavoreremo in questa direzione, insomma abbiamo avviato una serie di esperienze nuove sul piano della formazione, enogazione umidetturismo, informatica, una magistrale ulteriore a pesche, sempre in informatica. Abbiamo un'offerta formativa completa, quindi i giovani di questo territorio si possono formare in tempi veloci e bene qui per poi per chi vuole andare a collocarsi nel mercato del lavoro con i titoli in regola in regione o anche in Italia o all'estero.